Pino Daniele è immenso quando è l'emozione sempre fortissima quando riascoltiamo questo pezzo e ancora di più questa mattina che ho la fortuna e il piacere di avere con noi Alessandro Daniele figlio e grande collaboratore di Pino Daniele negli anni Alessandro ciao non hai idea del regalo che ci hai fatto mamma mia ho i brividi allora è uscito un libro che ci ha dato l'occasione per questa chiacchierata tutto quello che mi ha dato emozione viene dalla luce edito da Rai viene alla luce edito da Rai libri allora tu hai collaborato tantissimo non anche nella vita artistica del tuo meraviglioso papà tu nel libro cosa hai voluto mettere come come si è andato a rielaborare tutta questa grande storia artistica e personale è stato un percorso anche diciamo un lavoro lungo che è durato tra i cinque e sei anni perché non è stato veramente difficile mettere insieme i pezzi ma anche scrivere questa storia perché dico la verità io all'inizio non ero convinto non ero sicuro sono stato diciamo un po spinto e incentivato dagli amici dai collaboratori perché in realtà mancava un libro biografico sul mio padre anche se esiste un volume nel 94 che in qualche una piccola autobiografia ma veramente non era così ricca io dovevo ho cercato veramente invece di tracciare un percorso cronologico della sua carriera ma anche di un percorso umano perché alla fine non c'è una distinzione tra l'uomo e l'artista anche se a volte può sembrare invece che sia così esiste solo un momento in cui papà incontra se stesso e quindi scopre che cosa vuole fare che musica deve fare qual è il suo il suo destino e quindi questo viene un po alla luce adesso dando sempre il titolo del libro esatto tutto quello che mi ha dato emozione viene viene alla luce in questo in questo senso certo sì ma i racconti che ci sono all'interno cioè da una parte servono c'hanno il libro hanno duplice lettura perché da una parte ci sono dei racconti che servono per storicizzare questo percorso e quindi anche quelli che sono diciamo le vicissitudini alla radice di un di un brano no di quelli che del suo appunto percorso artistico dall'altra parte invece ci sono gli aneddoti e la sua esperienza umana è una che è una grande testimonianza non solo del percorso artistico ma anche di inclusione sociale perché papà è uno che nella vita insomma ha avuto diverse difficoltà anche fisiche e io in qualche modo che hanno voglio dire da una parte l'hanno portato a fare delle scelte sul suo lavoro che le hanno veramente condizionato nel suo percorso e l'ho fatto non per diciamo portare il lettore a guardare dal buco della serratura per incuriosirlo ma sempre per testimoniare questo percorso e per aiutare eventualmente il lettore a trovare una chiave di lettura di risoluzione delle proprie problematiche perché papà è entrato nella vita delle persone attraverso le canzoni e in qualche modo anche la sua figura umana il suo percorso umano deve poter aiutare anche le persone insomma che magari si fermano le prime difficoltà perché così scoprono invece un Pino Daniele un artista che non si è mai fermato alla prima difficoltà non ha mai cercato di vedere che cosa non posso fare in base nella mia difficoltà ma invece che cosa posso fare nella mia situazione di disagio c'è anche la fondazione Pino Daniele che si basa ovviamente su tutto quello che ci hai appena raccontato esatto anche i proventi del libro sostengono i suoi delle emozioni per il contrasto alla povertà educativa il disagio scolastico è un bellissimo progetto allora noi abbiamo ascoltato quando in apertura ho scelto tre paesi io li amo tutti però vabbè ne ho scelti tre anche così per per contestualizzare un po' questa chiacchierata per esempio è uscito anche il cofanetto quando no quando tu hai sempre fatto confondazione che oltre diciamo a essere impegnati sul sociale aiutiamo anche le varie case discografiche che hanno diciamo diversi documenti di mio padre i documenti intendo i dischi quindi i master proprio per rimetterli sul mercato contestualizzando anche il periodo storico in cui si sono stati lavorati cerchiamo di inserire quindi apriamo i nostri archivi inseriamo del materiale documentaristico di immagini ma anche di video a volte di audio in più insomma per arricchire e continuare a valorizzare questi magnifici documenti che insomma splendono già di loro è vero senti a proposito di quando ci viene subito in mente un meraviglioso film con massimo truisi quindi c'era anche questa bellissima amicizia e questo sodalizio artistico fra di loro cosa ti ricordi di quel periodo era al 91 era sì guarda il massimo veniva spesso a formia adesso ad esempio oggi oggi casualmente mi trovo a formia proprio a casa a casa nostra di solito io invece vivo vivo a Roma e massimo veniva qui ecco sempre la stanza dove mi trovo è quella proprio dove qui a fianco proprio ha composto tanti di questi brani erano composti in giro per casa massimo veniva spesso era un'amicizia che andava al di là di quello che era la collaborazione tra di loro e nel libro racconto anche il momento in cui massimo ascolta per la prima volta quando perché in realtà papà era arrivato da massimo a Roma quando vive a Roma con una serie di brani per questo film pensavo fosse amore invece era un carezze tra i brani ce n'era un altro a cui massimo spingeva diceva mettiamo questo che è un po più commerciale bello e legato al film e papà invece aveva già deciso che invece il brano doveva essere quando soltanto che doveva portare massimo a dire sì è vero Pino c'è ragione e quindi racconto anche questo nel libro di questo loro modo anche diciamo di dialogare insomma è molto fantastico allora adesso io ho scelto Anna Verrà è una canzone che mi emoziona sempre tantissimo così poi parliamo anche del suo rapporto del rapporto di Pino Daniele con la città città meravigliosa che è Napoli dai mille colori c'era anche Napoli ce ne erano tutte da mettere stamattina però io amo moltissimo Anna Magnani e quindi quando risento Pino Daniele con questo omaggio Anna Verrà cioè mi scendono le lacrime dagli occhi te lo dico poi ti racconto due aneddoti infatti è il motivo per cui l'ho messa ma credimi decidere tre canzoni di Pino Daniele è stato difficilissimo perché tutti tutti che dicevano no ma mettiamo quella ma c'è anche quell'altra c'è anche quell'altra ma senti che roba senti che musica ascoltiamo anche l'intro Pino Daniele grande ma l'emozione è incontenibile io te lo dico lo sto dicendo ad Alessandro Alessandro Daniele mamma mia stamattina è qui figlio di Pino Daniele per parlarci del libro Pino Daniele tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce tra l'altro qui stiamo parlando di una canzone per Anna Magnani dimmi quando questa guerra finirà noi che abbiamo un mondo da cambiare che poi detta oggi c'è ancora più forte più forte riascoltata oggi era mascalzone latino no l'album dell'89 cosa avevi degli aneddoti anche su questo sì sì adesso la versione che avete scelto voi è un remake in realtà del 98 che bellissima versione nulla da togliere diciamo l'originale ma è questa anche questa mi piace molto però il brano in realtà proprio lo scrisse ma non per l'album cioè era destinato inizialmente alla sigla di un di un fantastico che doveva condurre appunto Massimo Ranieri e quindi Massimo venne proprio qui a casa provarono anche a cantarla insieme poi alla fine gli autori del programma insomma decisero che non era il brano giusto per per la trasmissione e quindi però papà decise non è che disse ah va bene la canto io no diamola a un giovane proviamo cioè mandiamola a Sanremo cioè proprio non era ancora poi neanche lì andò in porto insomma per per portarla a Sanremo e alla fine decise di cantarla lui insomma io devo dire che ha fatto bene sì perché aveva una pasta di voce che era emozionante anche proprio il suo timbro di voce al di là poi delle parole non delle musiche sì nel nel libro però racconta anche un momento drammatico di questo periodo soprattutto anche quando cantava in studio a Navarra proprio nello studio che abbiamo qui a casa ancora esiste e perché è il momento in cui sforzando con la voce quindi nella parte alta e non riusciva a cantare perché aveva dei dolori ed è proprio il momento in cui lui scopre che ha questi problemi di al cuore e tutto questo gli ovviamente cambia le prospettive della carriera cioè quindi nella realizzazione di questo album capisce che non sta bene e deve subire un'operazione e dopo questa operazione i medici gli proibiscono di tornare sul palco ma con una durissima perizia medica senza data di scadenza e questo per lui diventa un dolore perché continuare a fare musica lo farà lo farà a casa lo farà in questa stanza dove mi trovo adesso ma non gli basta creare musica per i film per programmi anche televisivi avere bisogno del contatto con il pubblico con il pubblico esatto siamo quasi i saluti no tra l'altro tu hai citato massimo ragneri che ha omaggiato Pino Daniele nello scorso Sanremo insomma sono sempre tanti le occasioni per ascoltare ecco il rapporto con Napoli ovviamente esce tra pelano c'era anche Napolè da ascoltare purtroppo abbiamo ancora pochissimi minuti abbiamo scelto Oscar Raffone perché così a me dà molta molta gioia mi ricordo il momento nella quale uscita la cantavo sempre non vedevo l'ora di ascoltarla quando va benissimo va benissimo ironizzava a parte il testo è sopra diciamo questa chiave sua ironica di raccontare le cose un po' anche all'Edoardo di Vilippo è questo che ricordo scherzava diceva visto che tutti i tuoi fratelli hanno comunque una canzone la tua è Oscar Raffone e quindi insomma ci salutiamo così ma è stato meraviglioso averti con noi grazie anche per questo libro bellissimo regalo di Natale tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce dirai i libri Pino Daniele ovviamente Alessandro Daniele è stato con noi ricordiamo che i proventi del libro sostengono i suoni delle emozioni per il contrasto alla povertà educativa e il disagio scolastico un abbraccio grande 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 grazie per tutte queste emozioni che sono venute alla luce adesso facciamo partire il disco e salutiamo ciao Alessandro grazie ad Amerigo che è stato in regia Paola Farina in redazione il nostro direttore Luca Levati tutti i nostri ospiti io sono la Stefilongo torno domani dalle 10 alle 12 ma guarda che ero emozionata forte mamma mia e beh insomma un grande personaggio così che abbiamo amato tantissime chissà ancora quante canzoni avrebbe potuto regalarci a domani